secondo voi utenti di youtube può esistere un prete un dono quindi che prega per fare in modo che le buche vengano rimarginate punto di domanda sembra incredibile ma effettivamente esiste si chiama luis roldan patino come riporta la fox tena tv pensate che vuole pregare domenica anche per rimettere a posto le buche bagnando tra virgolette con acqua santa in modo simbolico la strada disse stata la strada che purtroppo ha le buche probabilmente si tratta di una provocazione in piena regola ma sta di fatto che è una provocazione piuttosto insolita che cosa sarebbe dai microfoni di fox tv il prete in questione noi ci sentiamo abbandonati dalle autorità spagnole insomma queste sarebbero state le risposte dal donno a chi gli chiedeva una spiegazione plausibile a per così dire una azione di questo tipo bene ringrazio per lo scolto come il dio è un annonipotente a volte pregare utile anche per questo motivo qua